Si sono spinti ai confini del mondo per recuperare la loro eredità, ma manca ancora un oggetto per riscrivere la storia. Ora il destino di tutti noi è nelle mani di un sacerdote, mani su cui è inciso un segno, il segno della cruce. Il nuovo bestseller di Glenn Cooper dal 7 novembre in libreria.